questo nuovo video di brukeven e adottami oggi scopriremo le differenze tra brukeven e adottami ma prima di iniziare iscrivetevi e lasciate un bel mi piace e attivate la campanella per le notifiche iniziamo con la prima cosa su brukeven e su adottami ci sono le case ma su brukeven vedete tipo qua è un po' seduta questa è libera su brukeven le case ogni giorno c'è il timer che scade il tempo della casa invece su adottami no infatti tipo per esempio adesso metto questa premium anche se non mi piace tanto è così è una casetta a caso poi allora tipo vedete qui le case sono così le puoi chiudere a chiave qualcosa che si può fare pure su adottami ma deve essere più vicino a casa che si può fare pure su adottami adesso vedremo su adottami come sono le case queste invece sono le case di adottami ma che è successo ah no ecco questa invece vedete la casa di adottami cioè questa qua rimane per tutti i giorni cioè la dovrete cambiare la casa se la volete un'altra io tipo ho comprato questa da vip perché tipo su su adottami c'è il vip vedete invece su brukeven c'è il premium chi non lo sapesse adesso vedremo una seconda cosa di brukeven e adottami per esempio vedete su brukeven ci stanno se mettete lo zainetto tipo il telefono il tablet il libro cosa che invece su adottami non c'è su adottami invece c'è su brukeven quindi c'è l'inventario coperto vedete io c'è un inventario un po' ricco però non quelli ricchi però vedete tipo ci sono questi pet queste cose il pet si possono pure cavalcare e sono pure fly adesso andiamo alla seconda tappa la seconda tappa terza non mi ricordo è la scuola ma dove entro questa è l'uscita vabbè comunque questa è la scuola c'è il campetto da calcio e tutte queste cose adesso cercherò di entrare perché forse ho sbagliato strada non mi ricordo più dove si entra ecco qua si entra da qua dopo cent'anni l'ho capito allora su brukeven puoi fare la studente o la maestra praticamente questa è la scuola e la classe di matematica ma che hanno scritto coi banchetti e poi di qua c'è l'inglish ma che hanno scritto nella stanza d'inglese voglio vedere Fiona Spark School vabbè è uguale usciamo da questa stanza d'inglese ah questa non l'avevamo fatta di scienze tipo possiamo noi anche scrivere sulla lavagna non è che per forza gli altri poi vedete queste sono le cose la principe usce come si legge qui non lo so che cos'è per fare un po' di corsa andiamo al piano di sopra della scuola allora c'è questo coso e c'è il pianoforte sentite che tanto sono brava c'è vabbè e adesso vedremo la scuola di Adotmi questa è la scuola di Adotmi vi ricordavo che era nuova quindi per esempio adesso equipaggio un petto a caso vabbè prendiamo l'unicorno oro non voglio perché poi dopo se mi mandano qualche trade quella è una sorpresa tipo qua dai da mangiare no pure qua possono bere mangiare è l'ora di andare a scuola è bellissimo sei già a scuola comunque ecco questa no 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 meglio che non mi trasporti interrompi corsa questo era solo per un esempio quindi adesso ogni unicorno durato lo levo e questa è la scuola anche qua c'è la lavagna lì prima ci siamo già stati prima adesso andiamo a controllare questa stanza con i computer sta sempre col computer perché vi ricordo che prima la scuola era in un altro modo in un altro aggiornamento cioè questa è la scuola nuova dell'aggiornamento cioè non vedete quanto è figa e adesso vedremo un'altra cosa su Brookhaven e su Adotmi allora qua c'è un'altra tappa praticamente su Adotmi si facevano i trade gli scambi tipo qua no prendi una cosa tipo il computer ce lo devi avere sulle mani poi prendi una persona tipo la clicchi e regala se lei accetta il regalo bene oppure è uguale no proprio no non l'ha accettato regala prova a regalare no non l'ha accettato nessuno questo computer e invece su Adotmi che c'è vi chiedete come mai sono al centro perché praticamente qua ci stanno le persone per fare quella cosa che ho detto tipo adesso prendo un animale o cosa a caso la chizzone anche se vale tantissimo ma chi scambi la chizzone io non la vorrei scambiare tipo prendi questa qua annulla non voglio fare niente no tipo adesso dico questa e metto scambio richiesta di scambio invece dei regali qua ci stanno le richieste di scambio di ora gli metto un gatto lei che mi mette io li rifiuto perché praticamente qua c'è il mio dream pet lei tipo non accetta richieste di scambio vi devo far vedere un altro punto su Brookhaven e su Adotmi ora andiamo ai veicoli allora tipo qua i veicoli c'è questa macchina tipo qua le macchine un po' male si guidano vado adassa qualcuno ecco invece come sono le macchine su Adotmi ve lo siete mai chiesti credo di sì ma io per farvelo vedere adesso quindi vediamo i veicoli tipo io vado sui miei inventari veicoli tipo qui vado a una macchina una macchina wow ma è grossissima e anche questa si guida un po' così così adesso andiamo alla seconda tappa ah no scusate no seconda volevo dire boh non ricordo quinta decima andiamo sull'avatar vedete tipo qua potrete scegliere i capelli questi si fanno così ma non c'è vip e non vip tipo adesso sto cambiando un po' il mio avatar brookeven per farvi solo vedere tipo adesso mi metto la maglietta di lana ecco boh chi è che ne so io poi tipo mi metto questi pantaloni e qua i vestiti sono così su Adotmi i vestiti come sono allora togliamo un po' questa cucine su Adotmi tipo qua c'è il guardarobba mettiamo una faccia così a caso vabbè chiudi non mi interessa niente sto mettendo delle cose a caso per farvi solo vedere le cose tipo i pantaloni qua mettiamo questi anche se sono unita tipo qua le cose sono così ah che ho fatto i vestiti su Adotmi sono così ma che avatar brutto ebbene zuccherini questo video è finito spero che vi sia piaciuto chi non ha visto i miei video e è rimasto indietro che li andasse a vedere sul mio canale un grande passione la mia e ciao 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 Grazie a tutti.